Parchi ed edifici abbandonati sono stati l'obiettivo principale dei controlli straordinari interforse durante il weekend nel territorio comunale di Vicenza e che si sono conclusi nella mattinata di oggi. Pattuglia di agenti di polizia di Stato e locale con i finanzieri hanno ispezionato i luoghi che erano stati segnalati dai cittadini per il ripetersi molesto di episodi di micro criminalità legati allo spaccio di droga e comportamenti di gravi disturbo della quiete pubblica. Ispezioni iniziate sabato e proseguite a notte inoltrata anche a ridosso di alcuni centri commerciali oltre che nelle zone calde a ridosso di Campo Marzio del Quadrilatero. Effettuati anche 5 posti di blocco sulle principali arterie stradali che hanno portato alla verifica di 63 autoveicoli, 133 le persone complessivamente controllate, 55 straniere e 37 con precedenti penali di polizia. Al termine delle operazioni il questore Paolo Sartori ha disposto due ordini di allontanamento dal territorio nazionale per cittadini stranieri pericolosi con numerosi precedenti penali risultati irregolari in Italia con l'obbligo di lasciare il Paese entro una settimana pena l'accompagnamento coatto e l'immediato rimpatrio. Tre fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza per soggetti socialmente pericolosi che non hanno legami con il territorio e difidati a rientrare per un periodo di tre anni e quattro avvisi orali a pregiudicati che si sono macchiati di reati contro il patrimonio, contro la persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti.